Siamo con Mattia De Manuola De Bei, nasce quest'oggi questa casa famiglia, nuova casa famiglia, in verità è un progetto che è già nato da tempo, però c'è questa nuova sede davvero molto molto bella, spieghiamo un po' questo progetto. Il progetto è nato sei anni fa, appunto come dicevi, ha un po' di tempo, è il progetto di una casa famiglia, una comunità familiare per l'esattezza, cioè una casa che accoglie bambini e ragazzi che vivono storie di disagio familiare, storie ovviamente gravi, un po' su idea della carità diocesana, ma che poi da lì è partita per incrociare mille collaborazioni all'interno della città. Tra le altre cose è proprio una rete che si è creata per cercare di aiutare questi ragazzi in difficoltà. Sì, il fatto che la casa famiglia sia qui nel centro storico di Chioggia non è casuale, è stato fortemente voluto perché così almeno è al centro della città ed è un servizio che viene fatto dalla città, ma che la città può fare a questi ragazzi che vengono accolti e quindi vicino alle scuole, vicino all'oratorio, vicino alle attività sportive, in maniera tale che la città si faccia carico insieme a noi dei ragazzini accolti e gli aiuti ad integrarsi nel territorio come tutti gli altri bambini. Per quanto riguarda naturalmente la possibilità anche di dare un aiuto concreto, basta prendere contatto con voi, chi vuole aiutare o prestare il loro aiuto può farlo tranquillamente. Sì, sarebbe il nostro auspicio di condividere con la città questa esperienza e c'è bisogno di tanto aiuto, tanti volontari lo fanno sia aiutando dentro la casa, c'è chi anche nelle piccole cose stira, oppure cucina, ma anche chi accoglie nel weekend i bambini, li accompagna in alcuni momenti della settimana e comunque la possibilità di dare una mano c'è a tanti livelli, è quello che chiediamo, i bambini vanno a scuola, frequentano delle palestre e dunque i genitori che incrociano questi bambini è giusto che conoscono questa realtà per poter affiancare... Farli sentire un po' a casa, insomma. Ricordiamo che non sono solamente i ragazzi di Chioggia ma l'accoglienza è a 360 gradi. Sì, sì, noi abbiamo accolto in questi anni, in realtà questa è una nuova casa famiglia, come dicevi, come diceva Mattia, sono sei anni che accogliamo bambini e abbiamo accolto bambini un po' della provincia di Venezia, provincia di Rovigo e qui nei dintorni. Sì, appunto come diceva Mattia, noi vorremmo che questa casa famiglia non fosse la casa di Emanuele e Mattia ma fosse la casa della città, dei cittadini che un po' tutti se la sentissero propria perché proprio la cultura dell'accoglienza divenga una cultura diffusa e condivisa. Grazie mille. Grazie. Siamo con Raffaella Perini di Murales, si parlava prima di essere un'esperienza condivisa dalla città, questa è casa famiglia, Murales sta cercando di creare il raccordo con il territorio in qualche modo. Sì, l'associazione Murales è nata proprio a sostegno delle attività di Mattia e Emanuele, a sostegno con delle attività concrete tipo c'è un gruppo cucina che aiuta a preparare da mangiare qualche giorno durante la settimana e anche attività di altro tipo. Nel 2012, quando c'è stata l'opportunità di trasferirsi in questa casa, l'associazione Murales ha messo in piedi una campagna che si chiamava 600 mattoni. Con questa campagna si voleva raccogliere dei fondi che sono serviti poi per acquistare gli arredi di questa comunità familiare. La campagna è andata bene perché abbiamo raccolto 35.000 euro che sono serviti per acquistare i mobili, la cucina e i mobili per le camere dei ragazzi, ma soprattutto quello che ci ha permesso è stato quello di contattare molte persone. Abbiamo stimato che abbiamo contattato circa 2.500 persone, tra semplici cittadini, dirigenti scolastici, professori, maestri, studenti, associazioni e anche aziende private, che hanno appunto contribuito economicamente, hanno donato il loro sostegno, che di questi tempi non è sicuramente facile, ma che hanno anche dato la loro disponibilità ad ascoltare perché, come vedete, dove è sistemata questa casa, non riesce a sopravvivere, a vivere, a portare avanti l'attività se fa tutto da sola. Deve essere integrata in un tessuto sociale che è pronto ad accogliere situazioni anche diverse che escono dalla norma, che escono dalla normalità, quindi pronti ad accogliere anche queste situazioni di disagio. E non è banale questa cosa, perché è facile invece cadere nella discriminazione e nell'esclusione. Quello che noi tentiamo di fare è proprio quello di creare una sensibilità e una comunità che sia pronta all'accoglienza attraverso iniziative, attraverso serate di formazione, attraverso racconti di esperienze fatte e anche appunto attraverso attività concrete. Ci stiamo riuscendo e questo è quello che portiamo avanti anche con il nostro nome, proprio dell'associazione Murales Senza Mura, e questo è quello che noi ci aspichiamo, di avere una città senza mura. Grazie mille. Grazie a tutti.